Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Elena Bolasco che vi parla e da Dino Cecconi, regista della diretta televisiva della Santa Messa, oggi in onda da Camerano, in terra marchigiana. Un comune vicino Ancona, con poco più di 7000 abitanti, che si erge sulla cima di un colle rivolto a mezzogiorno, mentre a nord li fa da cornice il Monte Conero. Le sue radici ci riportano a epoche lontane. I reperti archeologici ci parlano di un primo insediamento umano sin dall'epoca neolitica e dell'età del bronzo. Certamente Camerano è uno dei primi centri abitati dai Piceni nelle Marche. In epoca medievale si configura l'attuale centro storico. Alla sommità la chiesa di San Francesco, antico convento. Il paese faceva parte della diocesi di Numana e già dal 1200 circa risulta libero comune. Successivamente passò sotto il controllo di Ancona, diventando uno dei castelli di difesa per l'area del Conero. Camerano venne annesso al Regno d'Italia nel 1860 dopo la battaglia di Castelfidardo. Durante il periodo delle grandi guerre la popolazione trovò sicurezza nelle labirintiche grotte come rifugio durante i bombardamenti. Questi ipogei, che inizialmente erano più stretti e adibiti a cantine come deposito di acqua e alimenti, diventarono poi spazi di rifugio e sicurezza e quindi anche luoghi di incontro e di culto, come testimoniano due chiese ipogee che si trovano all'interno del percorso e le sale a pianta circolare e ottagonale con freggi e simboli religiosi, legate ad ordini di monaci guerrieri e ospedalieri. I cunicoli sotterranei permettevano alla popolazione di nascondersi in caso di assedi e minacce. Si dice che Camerano si è estesa più sottoterra che sopra. Ritornando alla luce, Camerano, a inizio Novecento, conobbe uno sviluppo artigianale ed economico molto forte. Dopo il secondo conflitto si trasformò in centro industriale con la costituzione di numerose imprese artigiane e industriali di vario tipo. Pur coinvolte dall'attuale crisi, mantengono officine artigianali e la produzione di mobili e camice. A dar colore a queste colline è sicuramente la produzione del vino, il Rosso Conero, che rende onore a Camerano, un territorio pieno di vita, che attento ai giovani in difficoltà e mostra particolare cura verso gli anziani bisognosi di assistenza. La piazza del paese pone al centro un monumento dedicato al concittadino Carlo Maratti, della seconda metà del Seicento, uno degli ultimi grandi maestri del classicismo barocco. Nella chiesa di Santa Faustina una sua tela, San Nicola. Il cuore spirituale della comunità è nella parrocchia dedicata all'Immacolata Concezione, le cui origini sono del XII secolo. Ci accoglie oggi per la liturgia e per la celebrazione della giornata mondiale per la vita. L'interno a croce greca, frutto di una trasformazione radicale del 1676, conserva pregiate opere. In una cappella laterale, la Madonna della Speranza, antica icuna mariana di forte deluzione. Significativa la traslazione della Santa Casa in questa terra lauretana. Il catino absidale, finemente decorato, valorizza la lastimata tela della Madonna col bambino del Maratti e il coro ligno del XVII secolo. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se non ci fossero uomini che danno prova di cordialità e di generosità spontanea. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, risuona nel brano evangelico di questa quinta domenica del tempo ordinario. In questa giornata per la vita, ci impegniamo a contagiare il mondo di amore e positività. Presiede la celebrazione il cardinale Edoardo Minichelli, arcivescovo della diocesi di Ancuona Osimo, con celebra il parroco Don Aldo Pieroni. Il servizio liturgico è offerto dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Samuele Costantini. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto da Don Michele Marchetti, vice parroco, alla tastiera Giulio Santini. non ci sia un nome di almerizzazione la ristruttiva, che in generosità non è un nasce. Il servizio liturgico è un salto in generosità, ma non è un salto in generosità, che in generosità, che in generosità non è un salto in generosità, che in generosità le facciamo un salto in generosità, che in generosità non invece tra i nostri piñiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Pasqua settimanale, in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato, per risorgere la vita nuova. Grazie a tutti. E insieme diciamo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie a tutti. 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 E pace in terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la Tua sapienza dalla logica del mondo, Donaci il vero Spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella carità, diventiamo luce e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Esaia, così dice il Signore, Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai, e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto, ed Egli dirà, eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, Allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio Grazie a Dio Il giusto risplende come luce Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto, felice è l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Il giusto risplende come luce, Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto, cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Il giusto risplende come luce, Sicuro è il suo cuore non teme, Egli donna largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si inalza nella gloria. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Io, fratelli, quando venni tra voi non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io riteni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio Parola di Dio Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Glorie a te, un Cristo. 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 Jezus ai discepoli e che da duemila anni risuona come parola di sapienza e di verità. Parole di sapienza, il sale sapido Parole di verità, la luce posta sopra il candelabro Questa sapienza e questa verità oggi sono dette a noi E attraverso la comunità dei discepoli questa parola è detta al mondo Ora carissimi, e lo dico anche a voi ragazzi Vorrei immaginare che Gesù, sapienza e verità divina ed eterna Fosse qui, visibile E dicesse a me e a voi Tu Edoardo, e tu, e tu, e tu Fai della mia sapienza Sei la mia verità Fai di me sapienza e di me verità la credibilità della tua fede in me E fai il tracciato del tuo annunciare me al mondo Senza fanatismi e senza sminuzzamenti Vorremmo tutti, a cominciare da me, dire a Gesù Sì signore, lo faccio Lo sono In realtà Anche noi Possiamo meritare l'improvio di Gesù a Pietro Quando voleva distoglierlo dalla croce Allontanati da me Perché mi sei d'inciampo Perché Pietro ragionava secondo la cultura mondana E non secondo Dio Il sale e la luce L'abitare e l'annunciare la sapienza e la verità di Cristo È nostro compito Attraverso una testimonianza educativa Fatta nella perseverante carità e fedeltà al Vangelo Tutto questo, carissimi Oggi ci è chiesto su un ambito ben preciso La vita Il suo mistero La sua sacralità La sua fragilità E la sua celebrazione nel tempo Celebriamo infatti oggi la 39esima giornata nazionale per la vita Siamo chiamati Alla sapienza E alla verità Sulla vita e per la vita Ora nessuno si offenda Ma sembra di essere oggi Dentro una sorta di insipienza Direi dentro una sorta di peccato collettivo Quando si pensa per esempio Che la vita sia una proprietà E non un dono Anche voi ragazzi Quante volte avete detto La vita è mia e faccio quello che mi pare Quante volte noi adulti abbiamo detto questo Diseducando i ragazzi Quando per esempio si pensa alla vita La vita è una vita vera Solo se libera dal mistero della croce E della fragilità Solo una vita bella e gaudiosa Sembra vita In realtà tutto è vita Quando per esempio la si elimina La si toglie Perché non desiderata Seppur già presente Quando la si mette da parte Perché è improduttiva Si dice non servi più a nulla Occupi un posto che non è tuo nella storia Quando la si deturpa negli abusi Nella violenza sui bambini innocenti Quando la si crocifigge nella miseria Quando non si accoglie nella disperazione Quando la si immiserisce E la si uccide con la guerra Quando la si ritiene inutile Perché si dice senza speranza Quasi che qualcuno possa essere padrone Del mistero della vita Senza tralasciare il fatto Che essa oggi è anche oggetto di mercato Siamo anche talvolta in presenza E lo dico con pudore Ma con verità In presenza di una politica esondante Che esce da un canale proprio suo Che pur consapevole Che nulla può sulla vita e sulla morte Tuttavia offre regole sul nascere e sul morire Come se la legge Possa essere criterio etico Sufficiente e determinante Fatemi dire anche così Noi ci arrabbiamo spesso con Dio Quando succedono fatti e dolori non governabili Nei giorni recenti abbiamo detto questo Ma non so perché noi Che ce la prendiamo sempre con Dio Non battiamo cenno Non battiamo un sussulto etico Quando è l'uomo a rovinare la dignità della vita Quando politica e scienza Pretendono di entrare nel mistero della vita Nasce una deriva etica Che può essere pericolosa Nel messaggio offerto dai Vescovi per questa giornata Viene presentata a testimonianza Una santa a noi ben conosciuta Santa Teresa di Calcutta Che ha raccolto ogni povertà Ha consolato ogni ferita E ha curato ogni sofferenza Essa è figura Esemplare di una storia d'amore Aperta ad ogni vita Allora concludiamo così carissimi Affidiamoci insieme un compito Serio Creare una cultura umana ed evangelica della vita Con alcuni riferimenti chiari Che ci affidiamo Per conoscerli E per farli propri Primo riferimento chiaro La vita è sacra Ed è inviolabile La mia è la vostra La mia è quella degli altri Secondo La non proprietà della vita Perché essa sta nella signoria E paternità di Dio Che la dona La custodisce E la richiama a sé Per voi ragazzi Spesso dite Papà e mamma mi hanno dato la vita Papà e mamma sono stati collaboratori di Dio Per dare la vita Non l'hanno inventata loro la vita Non l'hanno inventata loro la vita cari ragazzi Dio solo la dà La custodisce E quando è ora la richiama a sé E terzo convincimento La condivisa e solidale custodia della vita perché sia piena nella dignità e perché sia accompagnata nel tempo della povertà Della croce e anche della morte Saluto dicendo grazie a quanti nei disseminati luoghi di cura di sofferenza e di povertà sono servi della vita Sapendo e riconoscendo Cristo sofferente nella carne crocifissa del malato Dell'escluso del povero e del morente E permettete che saluti anche tutti gli ammalati Anche quelli della nostra comunità Alcuni di quali oggi non possono essere presenti perché malati anche con la febbre Li salutiamo tutti Da quelli che stanno negli ospedali migliori Sia quelli che stanno nei luoghi di cura E sia quelli che tribolano le loro case Su tutti scenda la sapienza di Dio La carità di Dio attraverso il nostro servizio Amen Grazie a tutti Rinnoviamo la nostra fede Credete in Dio Padre Onnipotente e Creatore del Cielo e della Terra Credo Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore Che nacque da Maria Vergine e morì e fu sepolto E risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre Credo Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi La remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna Credo Questa è la nostra fede Questa è la fede della Chiesa E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore Rivolgiamo la Comune preghiera a Dio, nostro Padre Perché ci renda veri discepoli e testimoni del Cristo, primizia dell'umanità nuova Preghiamo insieme dicendo Ascoltaci Signore Ascoltaci Signore Per il Papa Francesco Per il nostro Vescovo Edoardo Per tutti i pastori Perché al servizio del popolo di Dio Siano istancabili messaggeri di verità e testimoni della pace Preghiamo Ascoltaci Signore Per tutti coloro che hanno responsabilità politiche, educative e sociali Perché sappiano progettare e costruire la vera pace Che mai si arrende Che guarisce le ferite Che custodisce e fa progredire la vita Preghiamo Ascoltaci Signore Per i papà e le mamme Per chi accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio E siano per i loro figli guide e testimoni nella fede Preghiamo Ascoltaci Signore Per le famiglie nuove Perché possono avere una casa lieta ed accogliente In cui non manchi la salute, la serenità e la capacità di diffondere il messaggio di speranza e di pace Preghiamo Per tutti coloro che sono stati duramente provati A causa del terremoto e delle altre calamità Per gli ammalati Perché avvertono nel nostro aiuto fraterno La presenza del Signore Che ha fatto Sue tutte le nostre gioie e infermità Preghiamo Ascoltaci Padre che hai posto il tuo Cristo come luce delle genti Fa che dall'oscurità dell'ora presente Emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto E la tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo E le speranze dei poveri Per Cristo nostro Signore Amén Il pane e il vino Doni che si fanno a Eucaristia Due simboli che ricordano il nostro lavoro e il nostro impegno di vita quotidiana E che ci invitano in questa giornata per la vita Ad avere attenzione per gli altri E in particolare ad avere cura degli anziani, dei deboli, dei piccoli Educare alla vita, sottolineano infatti i Vescovi nel messaggio per la giornata Significa entrare in una rivoluzione civile Che guarisce dalla cultura dello scarto Dalla logica della dinatalità Dal crollo demografico Favorendo la difesa di ogni persona umana Dallo sbocciare della vita Fino al suo termine naturale Prendi questo pane Trasforma voi in te, Signore E sarà un tuo corpo che ci giurirà Prendi questo lino Trasforma voi in te, Signore E sarà un tuo corpo che ci salverà Noi con te, in questo sacrificio Noi con te, compriamo questa vita 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 Tu, Signore Pregate fratelli e sorelle Perché il mio e vostro sacrificio Sia gradito a Dio, Padre Onnipotente Il pane e il vino che hai creato, Signore A sostegno della nostra debolezza Diventino per noi sacramento di vita eterna Per Cristo nostro Signore Il Signore sia con voi In alto i nostri cuori Rendiamo grazie al Signore Nostro Dio E cosa buona e giusta E' veramente giusto Benedirti e ringraziarti, Padre Santo Sorgente della verità e della vita Perché in questo giorno di festa Ci hai convocato nella tua casa Oggi la tua famiglia Riunita nell'ascolto della parola E nella comunione dell'unico pane spezzato Fa memoria del Signore risorto Nell'attesa della domenica senza tramonto Quando l'umanità intera Entrerà nel tuo riposo Allora noi Vedremo il tuo volto E loderemo senza fine La tua misericordia Con questa gioiosa speranza Unita agli angeli e ai santi Cantiamo a una sola voce L'inno della tua gloria Santo, Santo, Santo Il Signore Il Signore Dio dell'universo Il Cielo e la terra Che risponde la tua gloria O Santa Nell'alto Il Cielo Benedetto Benedetto E colui che viene Viene nel nome del Signore O Santa O Santa Nell'alto Nel Cielo O Santa Nell'alto Nel Cielo O Santa O Santa Nell'alto Nel Cielo O Santa Nell'alto Nel Cielo Padre Veramente Santo Fonte di ogni santità Santifica Questi doni Con l'effusione Del tuo spirito Perché diventino per noi Il corpo E il sangue Di Gesù Cristo Nostro Signore Egli Offrendosi liberamente La sua passione Prese il pane E rese grazie Lo spezzò Lo diede ai suoi discepoli E disse Prendete E mangiatene tutti Questo è il mio corpo Offerto in sacrificio Per voi Dopo la cena Lo stesso modo Prese il calice E rese grazie Lo diede ai suoi discepoli E disse Prendete e bevetene tutti Questo è il calice Del mio sangue Per la nuova Ed eterna Alleanza Versato per voi E per tutti In remissione Dei peccati Fate questo In memoria Di me Mistero della fede Annunciando Annunciando Alla Signore Prendiamo La tua Signore E la Catezza Della tua vita Celebrando il Memoriale della Morte e Risurrezione Del tuo Figlio Ti offriamo Padre Il pane Della vita E il calice Della salvezza E ti rendiamo Grazie Per averci Ammessi Alla tua Presenza A compiere Il servizio Sacerdotale Ti preghiamo Umilmente Per la comunione Al corpo E al sangue Di Cristo Lo Spirito Santo Ci riunisca In un solo Corpo Ricordati Padre Della tua Chiesa Diffusa Su tutta La terra E qui Convocata Nel giorno In cui Il Cristo Ha vinto La morte E ci ha resi Partecipi Della sua Vita Immortale Rendila Perfetta Nell'amore In unione Con il nostro Papa Francesco Il nostro Vescovo Edoardo E tutto L'ordine Sacerdotale Ricordati Dei nostri Fratelli Che si sono Addormentati Nella speranza Della risurrezione E di tutti I defunti Che si affidano Alla tua Clemenza Ammettili A godere La luce Del tuo Volto Di noi Tutti Abbi Misericordia Donaci Di aver Parte Alla vita Eterna Insieme Con la Beata Maria Vergine Madre Di Dio Con San Giuseppe Suo Sposo Con gli Apostoli San Giovanni Battista E tutti i Santi Che in ogni tempo Ti furono graditi E in Gesù Cristo Tuo Figlio Canteremo La tua gloria Per Cristo Con Cristo E in Cristo A te Dio Padre Onnipotente Nell'unità Dello Spirito Santo Ogni onore E gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sé. Il Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace. pace sia con te. E con te. Grazie. 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 Deati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita. L'inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta ci accompagni verso l'autore della vita. La vita è bellezza, ammirala. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa. Abbi ne cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adimpila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. La vita è un'avventura, rischiala. Grazie a tutti. 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 Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anche essi hanno imparato dai loro padri. Da loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del bisogno. Così recita un brano del libro del Siracide. Grazie a tutti. La vera gioia di terra di terra, la vera gioia libera il tuo cuore. e la squadra di terra, 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 la squadra Rai esterna di Firenze. Vi diamo appuntamento per domenica prossima, 12 febbraio, per la Santa Messa, che sarà trasmessa dalla cattedrale di Cassano all'Oionio, provincia di Cosenza. La linea torna ora di terra, la linea torna a Lorenzo. La linea torna ora a Lorenzo, per la seconda parte del programma a sua immagine. A tutti voi, buona domenica.